Dopo oltre quattro settimane di negoziati, le trattative sono saltate. A Hollywood va in scena una protesta davvero insolita. Per la prima volta in più di 60 anni, dopo gli sceneggiatori, anche gli attori sono pronti a scioperare. Alla ricerca di salari più alti, royalties e protezioni contro streaming e intelligenza artificiale, più di 160.000 star sono sul piede di guerra. Gli attori si uniscono così alla protesta degli sceneggiatori in corso dal 2 maggio. Il rischio ora è che saltino intere produzioni con danni economici non da poco. Grazie.